Gli investigatori sono convinti di avere risolto il giallo di Valli Urbini, l'88enne soffocata con una sciarpa dopo una collotazione trovata morta giovedì mattina nel suo appartamento nel pieno centro di Cesena. È stata sottoposta a fermo di polizia una 57enne di nazionale età marocchina vicina di casa della vittima con l'ipotesi di reato di omicidio volontario e furto aggravato. Nei suoi confronti sono stati raccolti, è stato spiegato durante una conferenza stampa, numerosi, circostanziati e gravissimi indizi di colpevolezza. La straniera, interrogata nella notte di domenica, si è avvalsa dalla facoltà di non rispondere. La donna risiede a Cesena da oltre 20 anni con il marito e due figli ed è notta in città per avere lavorato come badante in diverse famiglie. Da tempo era sofferente di depressione, per questo aveva perso il lavoro e, secondo quanto riferito dagli inquirenti, alla spasmodica ricerca di soldi per confermare ai parenti in Marocco, ai quali inviava spesso denaro, il suo discreto tenore di vita. Il giorno precedente all'omicidio la donna avrebbe chiesto un piccolo prestito rifiutato all'Urbini. Questo potrebbe essere stato, sempre secondo la polizia, il movente. L'epilogo nella giornata di domenica, quando gli investigatori hanno saputo che la donna, nonostante fosse stata invitata a rimanere a disposizione, si stava recando all'aeroporto di Bologna con in tasca un biglietto aereo per Casablanca. È stato uno dei figli a convincere la madre a tornare indietro. Nel frattempo era stato recuperato a Ceseno in un bidone dell'immondizia un sacco che la magrebina aveva dato ad una parente per gettarlo via. Dentro un cappotto, un pigiamo, una maglia, due fedi d'oro e il portafoglio tutto appartenente all'Urbini. La successiva perquisizione, nelle valigie che la straniera aveva con sé, hanno permesso di ritrovare alcune sottovesti con cucite le iniziali dell'Urbini e riconosciute come tale anche dai familiari della vittima.